Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo ad inserire fotografie all'interno dei video. La richiesta di oggi è un po' particolare perché un utente in una delle varie chat live che faccio il martedì sera mi ha chiesto come si fa ad inserire un gruppo di fotografie all'interno dei video, quindi a creare un video fotografico praticamente. È una di quelle cose che solitamente non faccio perché non mi piacciono le fotografie all'interno dei video, però DaVinci Resolve ovviamente può fare anche questo. Quindi bando alle ciance e diamo direttamente un'occhiata al programma di editing. Siamo qui all'interno della pagina edit dove c'è già una traccia audio su cui poter poi aggiungere le fotografie. Dobbiamo solo andare a ricercare le foto che ci interessa andare ad inserire. Mi sono già preparato la mia cartella di immagini qui sotto. Prendendo le singole foto vedete che posso andare ad inserirle e a scegliere quali andare a recuperare per fare appunto questo tipo di lavoro. È possibile anche andare ad inserire file differenti dai classici jpeg, ad esempio in questo caso mi posso buttare anche su dei dng e otterrò questo effetto qui. In questo caso le clip sono ogni volta che vengono inserite sono gestite a 5 secondi alla volta. Se voglio andare a cambiare la lunghezza del clip posso semplicemente andare a cliccare con il pulsante destro Change clip duration, vi dico 50, 50 frame in questo caso, quindi saranno 2 secondi ed ecco che mi gestisce la clip in questa maniera. Se volessi mantenerli collegati invece tra di loro perché avete visto che cosa è successo che facendolo mi rimane questo spazio tra una clip e l'altra. Io non vado a fare altro che selezionare la mia modalità trim dire la durata ed ecco che la mia clip verrà collegata e in questa maniera avrò tutte le clip selezionate e collegate tra di loro ma ravvicinate. Cosa molto molto interessante. Se non conoscete questa opzione trim e arrow vi consiglio di dare un'occhiata a tutti gli altri video che trovate qui sopra o comunque qui sotto tra le varie playlist dei miei video e anche al corso completo dove perdo un bel po' di tempo nello spiegare che cos'è l'opzione trim e che cos'è l'opzione arrow che non sono dei comandi ma sono proprio delle modalità di utilizzo del programma di DaVinci Resolve della freccina, chiamiamola così, di spostamento o di trimmaggio su DaVinci Resolve nella sezione edit. Quindi otterremo questo tipo di immagine. A questo punto le immagini dureranno due secondi l'una però sono molto molto statiche possiamo decidere magari di inserire una bella transizione dandogli un comando T che sta per Transition e inseriamo queste transizioni molto semplici magari aggiungo l'audio oppure possiamo anche andare a fare qualcosa di ancora più entusiasmante ritorno nella modalità Arrow pigiando su A o cliccando qui sulla freccina e per entusiasmante potrei andare a creare uno zoom dinamico su tutte le clip che cos'è uno zoom dinamico? vedete la possibilità di spostarmi da un punto A a un punto B anche qui c'è un altro clip, un altro tutorial un'altra pillola di DaVinci Resolve dedicata allo zoom dinamico e comunque a questi keyframes di spostamento li trovate sempre o qui sopra o qui sotto tra i vari video e le playlist quindi vi consiglio sempre di rimanere aggiornati e di attivare la campanellina così vedrete poi tutti i vari video che usciranno dedicati ad ogni singolo argomento ma noi andiamo qui non sto a spiegarvelo nel dettaglio perché c'è un video dedicato ci si sposta nella sezione di Dynamic Zoom ed ecco che otteniamo il nostro Dynamic Zoom sulla prima clip la stessa cosa la facciamo su tutte le altre clip e quindi otterremo questa sensazione di movimento lo zoom può essere in e out swap 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 così ne avremo un po' in un verso e alcuni nell'altro verso ovviamente tutti customizzabili quindi possiamo decidere la velocità la dimensione, la larghezza semplicemente spostando i nostri frame ma questo è un altro discorso che esula dalla spiegazione di questo tutorial che è come inserire semplicemente e velocemente le nostre immagini all'interno del video spero che anche questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile se vi è piaciuto il video cliccate mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina come vi ho già detto prima per rimanere connessi e per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno noi ci vediamo il martedì con la diretta qui su YouTube il mercoledì con le videoproduzioni e con le recensioni dei vari prodotti che mi mandano e che mi mandate il giovedì con i tutorial di DaVinci Resolve non mi resta che salutarvi e dirvi ci vediamo con il prossimo video ciao